Musica E' appena finita la partita qui a Rocca tra l'Atletic Sicciano e lo Sporting Nola il ragazzo non ha vinto 4-0 una buona partita anche se tutte da secondo tempo sono state segnate le reti adesso siamo secondi in classifica e speriamo di andare sempre a mano conquistando sempre i punti sempre Forza Atletic Sicciano E' appena terminata la partita contro il Nola e abbiamo vinto per 4-0 un'ottima prestazione e ho fatto un altro gol speriamo di continuare così in vista delle prossime due partite che sono difficili sulla carta Forza Atletic e speriamo di continuare così Grazie a tutti No, 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 no. 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 No, 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 no.